E' presto, dormi a premio. Buongiorno, 22 gradi alle 6 del mattino, è giovedì 25 agosto. Partiamo subito con le notizie. Un vasto incendio ha distrutto sette case. Sveglia, sveglia, sveglia. Ero già sveglio. Ci sei? Ci sei? Sono quasi le sette. Faccio vedere una casa oggi? Sì. Sei riuscito a contattarla? Buongiorno. Ciao, Danny. Che ho preso a fare la patente se poi non ho la macchina? La scuola comincia la settimana prossima. La domanda per la Syracuse. Il tempo sta per scadere. Ho parlato a Chris Simpson per una referenza. I miei amici vanno tutti alla statale. Cosa? Danny, hai lavorato tantissimo per arrivarci. E il tuo prossimo compito? Il signore delle mosche. Allora, a che punto sei arrivato? Metà del capitolo 5. Quando quasi ammazzano quel ragazzino. Posso cavarmela anche da solo, adesso? Siamo arrivati lontano insieme. Vuoi scrivermi anche la relazione? Con 300.000 dollari vogliono comprare la casa dei loro sogni. Ma dai. Ce la farebbe vedere a mezzanotte. A mezzanotte? E la scuola che abbiamo visto ieri? Sì, è privata, ma ne vale la pena. Ma hai visto quant'è la retta annuale? Evito e alloggio non sono compresi. Cosa? Troveremo un modo, come sempre. Dobbiamo farlo. Ok, mercoledì. Bene. Finché non vedo Nero Subiaco che può impegnarsi... Io ti ascolto! Tu non mi ascolti! Ti ascolto! Non dimenticherò mai la faccia chiave. Ci proverò. Ti amo. Tu mi piaci abbastanza. Vai, salve! Cosa? 18.000 l'anno? Tesoro, non è l'MIT. È una scuola materna. Cos'è stavolta? Cime tempestose, Charlotte Bronte. Emily. Emily? Sì. Non mi scorderai mai quel viso. È bastato guardarci negli occhi una volta e è stato... Oh, capisci? Mio figlio vorrebbe che andassi in pensione. Non lo so. Forse sì. Questo andare e venire. Mi sembra tanto un conto alla rovescia. Parti la mattina, torni la sera. Poi un bel giorno, tanti saluti. Che cos'è? La vita. Va bene. Ci vediamo al prossimo giro. Ci si vede. Ci vediamo a domani. Viva la notizia. Viva la notizia. Viva la notizia. Va bene.